Pirro, re dell'Epiro, un condottiero audace tra mito e storia. Nato nel 319 anno corrente, Pirro, re dell'Epiro, fu un condottiero di eccezionale abilità e ambizione. Le sue imprese militari contro la Repubblica Romana nel corso delle guerre pirri che lo hanno reso una figura leggendaria, ricordata non solo per il suo valore in battaglia, ma anche per le sue sfortunate vittorie, che gli costarono il regno e la vita. Le prime esperienze militari Figlio di Acide, re dell'Epiro, Pirro ricevette un'educazione militare di stampo spartano. Fin dalla giovane età si distinse per il suo coraggio e la sua abilità strategica. Nel 280 anno corrente, intervenne in Italia a sostegno delle città greche della Magna Grecia contro l'espansionismo romano.Le guerre pirriche Le guerre pirriche, combattute tra il 280 e il 275 anno corrente, videro Pirro contrapporsi ai Romani in una serie di battaglie sanguinose. Pur ottenendo due celebri vittorie a Eraclea e Ascoli Satriano, le perdite subite furono ingenti, tanto da dare origine al termine e vittorie di Pirro, indicante un successo effimero che si rivela più dannoso che vantaggioso. Le ambizioni di Pirro e la sua morte Nonostante le difficoltà, Pirro non rinunciò alle sue ambizioni di conquista. Si spinse in Sicilia, dove combatté contro i cartaginesi, ottenendo inizialmente alcuni successi. Tuttavia, anche in questo caso, le sue vittorie si rivelarono costose e non decisive. Nel 272 anno corrente, durante un assedio ad Argo, Pirro fu colpito a morte da una tegola lanciata da una donna. Eredità e fama di Pirro Pirro è ricordato come uno dei più grandi condottieri dell'antichità. La sua abilità tattica e il suo coraggio in battaglia lo hanno reso un modello per molti successivi generali. La sua figura è stata anche oggetto di numerose opere letterarie e artistiche, che ne hanno contribuito a consolidare la fama. Conclusione La vita di Pirro è un esempio di come l'ambizione e il coraggio possano condurre a grandi imprese, ma anche a tragiche sconfitte. Le sue guerre pirri che hanno avuto un impatto significativo sulla storia della Roma antica, contribuendo a indebolire la città e a ritardare la sua espansione in Italia meridionale. Oltre la guerra, aspetti meno noti di Pirro. Oltre alle sue doti militari, Pirro era anche un uomo colto e raffinato. Si interessava di filosofia e letteratura, ed era un abile diplomatico. Fu inoltre un sovrano capace, che si dedicò alla riforma del suo regno e al benessere del suo popolo. Il mito di Pirro La figura di Pirro ha assunto una dimensione leggendaria già nell'antichità. Le sue gesta sono state raccontate da numerosi storici e poeti, che ne hanno esaltato il coraggio, l'audacia e la magnanimità. Il suo nome è ancora oggi associato all'idea di un condottiero eroico e sfortunato.